Grandi numeri a Francavilla al mare anche nella serata conclusiva della seconda edizione di Squilibri, il festival delle narrazioni che ha chiuso ieri i battenti e del quale Rete8 è stata per il secondo anno media partner. Notevole la partecipazione del pubblico con il colpo d'occhio impressionante al pezzale della stazione per sentire il racconto dettagliato di una delle pagine più oscure del nostro paese, quella della trattativa tra Stato e mafia nel libro Il Patto, scritto a quattro mani da Nicola Biondo e Sigfrido Ranucci. Quello che emerge chiaramente è un patto scelerato tra servizi segreti, mafia, destra e versiva, massoneria deviata, è un patto che è consolidato nel tempo e che non fa gli interessi del nostro paese ma è di riferimento a un patto atlantico e questo è quello che emerge nel racconto del libro. La cosa impressionante di questo libro è che è arrivato alla diciassettesima ristampa proprio perché ha all'interno dei fatti narrati la sua forza. È una forza incredibile perché i fatti narrati che fanno riferimento al periodo del 93, 94 e 95 sono dei fatti che poi sono stati confermati successivamente dalle sentenze e anche se non si è arrivati ad una verità giudiziaria io credo che ce n'è abbastanza poi una verità storica. Altra gestara della serata, Enrico Gagliano, scrittore particolarmente amato dai giovani, invitato a squilibri da Nadia Tortora che per il festival ha curato il rapporto con le scuole per parlare del suo intenso ultimo romanzo. Geografia di un dolore perfetto, ultimo libro di Enrico Gagliano, questo straordinario rapporto padre-figlio. Sì, ho provato a raccontare uno dei rapporti più difficili che esistano, quello fra genitore e figlio prendendo spunto da un fatto personale, da una storia vera accaduta poco tempo fa fra l'altro. Più che altro il libro è un modo per fondamentalmente andare dallo psicologo senza andare dallo psicologo. Ed il bilancio di questa seconda edizione di Squilibri non può che essere positivo. Migliaia di persone hanno preso d'assalto da venerdì a ieri sera gli spazi assegnati alla fiera tra decine e decine di incontri con gli autori, i laboratori, gli stand dedicati all'editoria abruzzese per la felicità della scuola Macondo che ha curato l'organizzazione per il comune di Francavilla che ha creduto nel progetto e per uno stanco ma soddisfatto direttore artistico, lo scrittore Peppe Millanta. Sì, siamo soddisfatti, soprattutto il pubblico ci ha premiato, diciamo così, nel senso che è stato molto partecipe, alcune serate proprio da incorniciare, soprattutto il serale è stata la fascia di affluenza massima e anche alcuni momenti molto emozionanti, devo dire, in primis per me, come l'arrivo di Gratteri è una piazza in religioso silenzio, scusatela, sono stanchissimo, quindi sì, insomma, una tre giorni di cui possiamo essere più che soddisfatti. È un bilancio importante e si pensa già alla terza edizione. Di già, oh mio Dio, sì, sì, un pochino sì, stiamo ragionando anche sull'imperfezione ovviamente per migliorarci, assolutamente, insomma, la bellezza è il poter sbagliare, quindi poi potersi migliorare e sì, stiamo ragionando anche in termini un po' di partnership con altre enti o istituzioni per creare un po' di rete sul territorio che poi è quello di cui abbiamo voglia sostanzialmente.